E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata alla politica regionale. Lunedì prossimo, in occasione dello spoglio elettorale, Video Sicilia proporrà delle finestre di informazione con collegamenti in diretta da Palermo, Caltanissetta, Catania ed Alcamo. Lunedì Video Sicilia si prepara a questa tornata elettorale. Come? Ecco, ci stiamo preparando un'informazione che ha a beneficio dei nostri telespettatori regionali. Stiamo per allestire l'intera squadra, perché è chiaro che non è un progetto, un prodotto personale, ma dell'intera squadra dei Video Sicilia News. Stiamo per allestire, stavo dicendo poc'anzi, una sorta, non una maratona, neanche una carrellata, delle finestre orarie. Nel senso che apriremo la trasmissione, ci sarai tu al mio fianco a darmi una mano, Giorno Lameglio Sedorano, il nostro editore, Francesco Pupitone. Insomma, tutta la squadra di Video Sicilia, in questo caso Video Sicilia News, per delle finestre orarie che avranno un tempo, a seconda dell'importanza, essendo una TV a Valenza regionale, ci porteremo a Palermo nei comitati elettorali dei candidati a presidente. A Caltanissetta avremo un nostro corrispondente che ci seguirà dal comitato centrale di Giancarlo Cancelleri, le sorti del Movimento 5 Stelle e poi da Catania apriremo anche il collegamento con il nostro inviato che seguirà dal comitato centrale di Nello Musumeci. Palermo, Catania, Caltanissetta e Alcamo. Perno centrale, il nostro studio di Video Sicilia News di Alcamo, città dalla quale noi irradiamo. Il studio ci sarai tu, seguirai i candidati, vi saranno i rappresentanti del Consiglio Comunale Alcamese che abbiamo già invitato, hanno dato la loro adesione, altri ne inviteremo nelle prossime ore. Quindi studio centrale ad Alcamo con delle finestre aperte, ripeto, a Palermo, Caltanissetta e Catania. E' una scommessa, caro Eros, una scommessa non soltanto personale ma una scommessa per tutti quanti noi. Bello quando tu ti confronti con un raggio molto più largo, con un pubblico più vasto quale quello regionale ed è bello perché ti confronti anche con altri colleghi, con altre testate di informazione ma con tanta umiltà. Appuntamento ai nostri telespettatori, Video Sicilia, lunedì mattina, canale 93 regionale, apriremo questo collegamento, ricordo tu sarai in studio, da Palermo ci sarò io con Francesco Pipitone e altri collaboratori, quindi seguiteci, cercheremo di darvi il dato, un dato importantissimo, questa volta sono elezioni che avranno valenza anche nazionale, quindi abbiamo scelto anche di fare questo prodotto perché saranno elezioni attraverso le quali vi sarà una proiezione che cambierà sicuramente le sorti del panorama politico nazionale. Quindi allora ne bocca al lupo a noi? Certo, ce lo meritiamo perché caro Eros, se fai parte della nostra squadra, sono orgoglioso di averti al fianco come lavoro, ce lo meritiamo tutti noi perché per noi, oltre ad essere un lavoro ma soprattutto è una missione quella di essere giornalisti in questo contesto regionale, seguiteci.